Tredicesima giornata del campionato di promozione, girone A, si affrontano Calzolaro e Tavernelle, 16 punti per i padroni di casa, quota 20 invece il Tavernelle con una vittoria, il Calzolaro si avvicinerebbe alle parti alti della classifica, il Tavernelle invece complice anche i tanti scontri diretti, potrebbe fare davvero un bel balzo in avanti, incontro che comincia subito con un episodio, ha segnato un calcio di rigore in favore del Tavernelle per un fallo ai danni di Graziani, rivediamo qui dal replay, proprio il numero 11 degli ospiti che finisce a terra e dunque calcio di rigore dal dischetto va il numero 9, Cacciamano mette dentro il gol dell'1-0, ospiti dunque subito in vantaggio con il gol del Bomber, non ci sta però il Calzolaro, prova a reagire, calcio di punizione da parte di Bartolo, la palla spiova in area di rigore, il colpo di testa sulla traversa di Allegri, arriva il pareggio da parte di Domenichini, 1-1, pareggiano subito i padroni di casa, il gol del numero 9 Domenichini, il più rapido a mettere dentro, dopo la traversa non ci sta il Tavernelle che si ributta in avanti, qui Brescia non riesce però a colpire in rete, tiro bloccato da Valenti, occasioni da una parte e dall'altra, attacca il Calzolaro, stavolta lo fa dalla sinistra, ancora con Bartolo che appoggia per Giardiello, il suo cross viene allontanato in area di rigore, poi altro pallone perso alla difesa del Tavernelle, mezzo in mezzo per Domenichini, che viene però anticipato da un difensore della squadra ospite, provava a rendersi pericoloso, ancora il Tavernelle, qui Montanucci viene fermato all'ultimo, all'altezza del dischetto del rigore, grande chance per il numero 10 del Tavernelle che continua ad attaccare, ancora una conclusione di poco alato, col sinistro ci ha provato Brescia, nulla di fatto, attacca allora ancora il Calzolaro, un colpo di testa salvato, quasi su una linea di porta, il pallone che rimane lì, la conclusione di Giardiello, bloccata da Maccari, primo tempo ricco di occasioni, uno a uno all'intervallo, la ripresa prova a partire forte il Calzolaro con un cross dalla sinistra, il pallone che rimane buono per Giuliani, lo appoggia all'indietro, conclusione alta, da parte del numero 8 Bartolo, colpita male, attacca ancora il Calzolaro, sempre dalla destra, l'azione di Santini che se ne va, mette il pallone all'indietro, non riesce a controllarlo Berettoni, buona chance per il Calzolaro, torna a farsi vedere anche il Tavernelle, il cross di Graziani, la fa sua Valentin, tuffo, blocca il pallone, poi corner per i padroni di casa, spavente lunghissimo sul secondo palo, sponda di testa, pallone che rimane buono per la conclusione di Domenichini, ribattuto dalla difesa del Tavernelle che si salva, altra chance importantissima per il Calzolaro, non sfruttata però, poi sempre Domenichini al limite, allarga il pallone per Santini, in area di rigore, conclusione, gran parata di Maccari con il piede, poi tenta una sforvigiata molto difficile, non trova il pallone, Domenichini attacca però ancora il Calzolaro, un assedio adesso, e la conclusione è alta da parte di Bartolo, che non riesce a inquadrare lo specchio della porta dal limite dell'area, dalla destra, Santini se ne va, finisce a terra, invitato a rialzarsi dal direttore di gara, proteste dei padroni di casa per un contatto, lo rivediamo qui, finito a terra, contatto che sembra comunque esserci, da definire poi se dentro o fuori aria, ma qui ci poteva sicuramente stare il fischio dell'arbitro, Tavernelle si rigette in avanti, un cross pericolosissimo, Valenti deve smanacciare, e allora Montanucci, il cross dalla sinistra, in area di rigore, il pallone che si impenna in qualche modo, Valenti con l'aiuto della traversa, mette il pallone in corner, attacca adesso, testa bassa, il Tavernelle, il cross da parte di Cacciavano sul secondo palo, la conclusione è alta di Montanucci, grandissima chance, è sempre Montanucci che se ne va dalla sinistra, mette in mezzo, blocca a terra Valenti, adesso il Tavernelle, la squadra che si rende più pericolosa, attacca ancora la squadra ospite, ci prova qui la respinta con i pugni di Valenti, ci prova sempre il Tavernelle dalla sinistra, il neo entrato Mencarelli, rientra sul destro e calcia in qualche modo Valenti, il pallone che finisce in corner dalla bandierina, arriva al cross basso, il pallone passa, viene allontanato, poi gran conclusione di Brescia e il gol del 2-1 del Tavernelle, lo sigla il numero 7 Brescia, forse complice anche una deviazione, un gol importantissimo nei minuti finali da parte del Tavernelle, il calzolaro non ci sta, si ributta in avanti, colpo di testa sul fondo, da parte di Allegria, era l'ultima chance, il Tavernelle batte il calzolaro 2-1 e sale secondo in classifica a 23 punti. Partita persa l'ultimo tuffo, partita persa il primo tuffo al primo minuto con il rigore causato dalla nostra difesa ingenuamente, riacciuffata meritatamente subito da parte nostra, un primo tempo equilibrato, dove probabilmente loro a livello di palleggio hanno dimostrato qualcosa in più, perlomeno oggi, e lo dimostra anche la classifica. Il secondo tempo, come faccio i complimenti al Tavernelle per il primo tempo, il secondo tempo la squadra di calzolaro ha dimostrato una maturità fino al novantesimo, dove forse per un errore nostro, dove c'è stato un errore un pochino di tutto il collettivo, abbiamo subito gol a partita finita, si sbaglia, come sbagliano gli arbitri, oggi l'arbitro ha sbagliato, dispiace, perché anche lui sicuramente è venuto qua, per fare la sua partita, però come sbaglia il centramanti, come sbaglia il portiere, sbagliano anche gli arbitri, quindi inutile attaccarci all'arbitro. L'unico errore nostro è che al novantaquattresimo, quando la partita è finita sull'1-1, con una squadra che probabilmente la classifica parla chiaro e sopra noi, va portato a casa qualche volta anche il pareggio, è la seconda volta che capita in casa, dispiace, però ho visto un 25 minuti fantastici del calzolaro, non abbiamo trovato il gol, ci servirà da lezione. Sicuramente vincere così all'ultimo proprio istante fa piacere, effettivamente è stata una partita difficile contro un'ottima squadra, con degli ottimi giocatori, per noi è stata dura perché venivamo anche dalla partita giocata mercoledì a San Venanzo, i campi in questo periodo sono molto pesanti, è stata una vittoria quella a San Venanzo faticosa, anche questa di oggi assolutamente, però la squadra ci crede, è un periodo in cui stiamo bene mentalmente, stiamo bene fisicamente, e tutte le partite proviamo a vincerle, anche oggi ci abbiamo creduto fino alla fine e è venuto questo bellissimo risultato, per noi importantissimo.